ed eccoci qua con un maltrattato a cartone che ha tentato la sorte in lega con un discreto secondo posto un sacco di hype no niente niente armi ma che già passato qualcuno interna di più dall'insomma che stai a divertirsi e lasci tua c'è proprio è il serio se tu la sei vabbè 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 allora vedi che devi fare non sembra molto astuto anch'io tutto non l'ho visto se non vi ho spavista dovevano avvicermi gravemente alla salute bello di mamma azione e velocità con accattone ma si dacci sotto dai tutto tuo stessi che partita la prima non manco una ricorda